L'area dell'asta del Toce nel Parco Nazionale della Val Grande potrebbe affiancarsi allo spazio wilderness più vasto d'Europa. Va in questa direzione la richiesta approvata ieri sera dal Consiglio Comunale di Anzola d'Ossola. Cinque i voti favorevoli, così si è espresso anche l'esponente della minoranza presente, due i contrari. La proposta di Anzola è di entrare nell'area protetta con il territorio compreso tra la superstrada e il Toce, terreni umidi e paludosi alla foce del rio Anzola dove nidificano Anatre e Cormorani ma anche il Martim Pescatore. È il vice sindaco Andrea Melloni ad aver curato il progetto. Già nel 2016 lo avevamo preso in mano con Ornavasso, poi quest'ultimo è andato avanti proponendo l'ingresso dell'area della punta di Migiandone. Noi ci siamo un po' arenati, spiega. L'amministrazione di Anzola ha voluto approfondire in particolare la presenza di eventuali vincoli. Spesso essere parte di un'area protetta è ancora un discorso impopolare. Si teme un freno alle attività umane, ma l'area in questione è già non utilizzabile e non edificabile per i vincoli idrogeologici, aggiunge Melloni. Lo stesso parla dell'ingresso nel parco come di una grande opportunità, un marchio di qualità per la riqualificazione di un territorio che si sta in parte lasciando alle spalle le attività industriali degli anni passati. Aperta la discussione con i vertici dell'ente parco che hanno dato la massima disponibilità. Melloni conclude sarebbe una scommessa far scendere il parco nel fondo valle, zone ideali per piste ciclopedonali, per passeggiate con la famiglia, per momenti di educazione ambientale. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Pieve Vergonte sarebbe così garantita la continuità territoriale tra Ornavasso, Anzola, Pieve e Vogogna. Il sindaco Maria Grazia Medalli riferisce che prossimamente la questione sarà portata all'attenzione della riunione dei capigruppo e poi del consiglio comunale pievese che si esprimerà entro febbraio. Per la fine del mese infatti è previsto un incontro dei vertici del Parco Nazionale della Val Grande presso il Ministero dell'Ambiente e a quest'ultimo infatti che spetta l'ultima parola sull'ampliamento dei confini.